...spesso alla locanda, perché un grande applauso, voglio una comunicazione per tutti gli ospiti su questo cittadino di Amandola, diciamo, su questo in vivo per tutti, venite e già venite alla locanda, che facciamo forse... Questo è un grande teatro, questo è un teatro di Amandola, ringrazio per tutti gli ospiti qui in Amandola, i pernotati, i gatti e poi questo non è come un buffet, quello si chiama buffet e voglio ringraziare anche i camerieri di Amandola Bravo! Grazie Marino! Un applauso ai pernotati, un applauso anche a loro A ragione! A ragione! A ragione! Un applauso a tutti voi!